La sua vita è stata tanto interessante quanto la sua carriera cinematografica. Nato in una famiglia di modeste condizioni, conobbe un'infanzia difficile, segnata dall'abbandono del padre e da un breve periodo in orfanotrofio. A 14 anni lasciò la scuola e si unì a una compagnia di acrobati e giullari, iniziando la sua gavetta nel mondo dello spettacolo. Viaggiò per l'Europa e l'America, perfezionando le sue doti di attore e cantante. Crebbe in un ambiente difficile, con una madre depressa e un padre alcolizzato. Questa esperienza segnò profondamente la sua infanzia e influenzò le sue relazioni future. Nel 1920 si trasferì a Hollywood, dove ottenne i primi ruoli come comparsa. Il suo debutto ufficiale avvenne nel 1932 con il film The Devil and the Deep. La fama arrivò con il film Notorious, di Alfred Hitchcock, 1946, che lo consacrò come uno degli attori più iconici e richiesti del panorama hollywoodiano. La sua carriera vanta una filmografia ricca e diversificata, spaziando dalla commedia al thriller, dal dramma al romanticismo. Tra le sue interpretazioni più memorabili ricordiamo Suspicion, 1941, The Philadelphia Story, 1940, Charade, 1963 e Intrigo internazionale, 1959. Si sposò cinque volte, ma solo il quinto matrimonio con Diane Cannon gli diede una figlia, Jennifer, nata quando Grant aveva 62 anni. Soffriva di depressione e ansia, disturbi che tenne segreti per la maggior parte della sua vita. Era noto per il suo fascino irresistibile, la sua impeccabile eleganza e il suo innato senso dell'umorismo. Fu un filantropo generoso, impegnato nel sostegno di diverse cause umanitarie. Dopo il ritiro dal cinema negli anni Sessanta, Grant si dedicò principalmente alla sua vita privata e alle sue attività filantropiche. Morì il 29 novembre 1986 a Davenport, in Iowa, all'età di 82 anni, lasciando un'eredità duratura come uno dei più grandi attori di tutti i tempi. I suoi film continuano ad essere amati e apprezzati da un pubblico vastissimo in tutto il mondo. Rimane un'icona immortale del cinema classico, un modello di stile e di classe inarrivabile. Fu un pioniere del metodo Stanislavski, applicandolo con successo alle sue interpretazioni. Era un perfezionista instancabile, noto per la sua dedizione al lavoro e la sua meticolosa attenzione ai dettagli. Il suo talento versatile gli permise di eccellere in una varietà di generi cinematografici. La sua naturalezza e il suo carisma lo rendevano irresistibile sullo schermo, creando un'immediata connessione con il pubblico. Cary Grant non è stato solo un attore di immenso talento, ma anche un uomo complesso e affascinante. La sua vita, ricca di successi e sfide personali, rappresenta una pagina indelebile della storia del cinema. La sua eredità artistica e il suo fascino senza tempo, continueranno ad ispirare e ad emozionare le generazioni future. La sua eredità artistica e la sua eredità artistica e il suo carisma di interventi. Grazie a tutti.